Ciao ciao a tutti ragazzi, non mi immaginerete nemmeno che cosa mi è arrivato Mi è arrivato un pacco di Shein gigantesco, pieno di vestiti E li ho scelti tutti quanti simili ai vestiti di Chanel E sono veramente una cosa proprio incredibile Stile anche tipo, lo stile tipo di Blair, di Gossip Girl Veramente fantastici E adesso vi faccio vedere tutto Ragazzi non vedo proprio l'ora di farvi vedere queste cose spettacolari Però prima vi volevo ricordare che lascerò il link del sito E di tutte le cose che ho scelto qui sotto nell'infobox E anche un codice sconto Allora ragazzi questa è la prima cosa Ed è questa gonna fantastica In tweed Con questi bottoni dorati è veramente stupenda E questo cinturino dorato, favoloso È veramente bellissima Con il fondo qui diciamo sfilato Troppo bella È fatta benissimo ed è tutta foderata Ed è stupenda La seconda cosa È questa giacca piena di paillettes Ed è veramente una cosa spettacolare ragazzi Allora come vedete è proprio tutta piena di paillettes Ed è per la sera È molto simile a una creazione che ha fatto Chanel con le paillettes nere Ed è veramente proprio stupenda Fantastica con queste perle su tutti i bordi E anche tipo in mezzo per far sembrare tipo delle tasche Ed è fantastica Mi piace troppo È bellissima ed elegantissima Ragazzi poi la terza cosa che vi devo far vedere È questa giacca stile mantello Che va proprio di moda quest'anno Sempre in tweed Eccola qui con il bottone extra Sentiamo proprio se non la perdiamo Comunque è una giacca stile mantello Ed è veramente veramente bellissima Il tessuto è eccezionale Ed è una bella giacca proprio Proprio di qualità Pure questo mi ricordo molto Chanel Ho anche lo stile di Blair Che è tipo Stile di Gossip Girl Che Mettevo sempre tipo queste giacche Stile mantello Giacche bellissime Mi piace troppo lo stile di questi bottoni bellissimi Le perle con anche i bordi dorati E questo cinturino Che poi c'è il fiocco Ed è fantastico Questa giacca so già che la metterò troppe volte E' veramente troppo bella Poi ragazzi ci sta questo vestito top E' fantasticissimo Questo è proprio stile Chanel al 100% Con questo tessuto così un po' scintillante anche Bianco e nero Diciamo morbido E Perfetto Fine Con questo fiocco nero E' una cosa bellissima E sembra come se ci fosse una camicia sotto così Però invece è un unico pezzo Ed è bellissimo Così Fantastico E' troppo bello Chic E comunque io in tutti questi vestiti Ho sempre preso la XS Ed è funzionato molto bene Ok ragazzi Poi ci sta Questo giubbotto Fantastico Sempre stile Chanel Perché Chanel aveva fatto Dei giubbotti simili Bianchi così Eccolo qui E' bellissimo Con questo fiocco Questi abiti sono pieni di fiocchi Comunque Con questo fiocco fantastico E' morbidissimo Il tessuto è ottimo E comunque sembra come se dovesse costare molto di più Anche come le altre cose E' veramente E' una morbidezza proprio incredibile Ed è ancora più bella nella realtà Poi Ha pure questi zip Le tasche che puoi chiudere con i zip e aprire Comodi E' favoloso Bellissimo Morbido E lo metterò un sacco Anche questo Questo inverno Ok ragazzi Questo è l'ultimo vestitino E comunque è bellissimo L'unico problema Che mi sta giusto un po' largo Però comunque Anche se io ho preso sempre la XS Però vabbè Comunque E' lo stesso Una cosa proprio Spettacolare Fine E' bellissimo Il tessuto sempre in tweed Con questo fiocco fantastico Con questo diamante di plastica Che si può anche togliere Perché è una spilla E questo fiocco comunque è super fine E' tutto foderato E dietro c'è lo zip Ovviamente anche questo è molto stile Blair Di Gossip Girl E' bellissimo E' bellissimo Ecco qui ragazzi Spero tantissimo Che vi sia piaciuto questo video E che vi siano piaciuti I vestiti Comunque Ricordatevi che lascerò Tutto qui sotto Nell'info box E comunque Vi consiglio tantissimo Cien Perché è Fantastico E ricordatevi di mettere Tantissimi like Se vi è piaciuto il video E di iscrivervi a questo canale Ci vediamo nel prossimo Ciao ciao